Sono Erika Cortes e sono un'operatrice del progetto Giovani di Alzano. Abbiamo svolto in quest'estate i lavori estivi con i ragazzi, ci sono stati 15 iscritti, sono stati coinvolti in varie iniziative, tra cui ripulire tutto il territorio di Alzano, il Serio, ripulire il Montecchio, le piazze, le strade. Sono stati molto bravi i ragazzi, siamo molto contenti, molto bravi, educati, rispettosi, sia con le persone che anche con tutto l'ambiente circostante del territorio di Alzano Lombardo. Come l'avete trovato questo territorio? Un po' sporco, sì, perché ogni lunedì, ogni giovedì, andavamo a ripulire le strade e ripulivamo veramente, tiravamo su tanta, tanta, tanta spazzatura. Ecco, il nostro messaggio è che magari i giovani ci pensino un po' di più prima di sporcare il proprio territorio, ecco. I ragazzi come hanno risposto? Che età avevano? Sono tutti liceali, quindi hanno dai 18, 20, 21. Abbiamo avuto un bel riscontro in realtà, 15 ragazzi, molto volenterosi, lavoravano tutta la settimana, tranne il mercoledì. C'erano altre attività oltre a questo? Sì, andavano alla Casa delle Associazioni, quindi hanno ridipinto le pareti, hanno montato i mobili, hanno pulito tutto lo spazio della Casa delle Associazioni, poi anche la Casa della Musica e anche delle aree del Montecchio, della Biblioteca, sono stati ripuliti, sistemati e messi a posto, insomma. È stata molto bella, abbiamo pulito diverse zone del nostro comune, è stato anche molto gratificante vedere il risultato finale, vedere tutto pulito, molto soddisfacente. Quale è la zona più sporca che avete trovata? Soprattutto giù sul serio c'era sempre molta sporcizia, ogni volta che tornavamo sembrava che praticamente non eravamo mai passati. C'è da fare sull'insegnare che capiscano le persone com'è l'educazione.